Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi se sentirete un po' la voce strana è perchè ho la sotturato Vabbè, comunque oggi sono andata a fare degli acquisti che sono tante belle cose sono solo 4, 3 o 4, boh, non lo so ma credo 3, sì, 3 e cominciamo con gli squishy che però sono solo 2 allora, c'è questo squishy qui a pallone che rappresenta il calcio è molto morbido allora, per chi si è scritto da poco e non sa la differenza tra morbido e slow rising adesso ve lo spiego allora, morbido significa che almeno si può squishare perchè è duro, non si può squishare invece slow rising significa comunque che si può squishare ma significa anche un'altra cosa che tipo tu lo squishy e torna lentissimo metto le dita perchè adesso questo non torna lento e quindi metto le dita comunque è molto morbido ed è bellissimo poi poi c'è questo squishy gelatino che è al cioccolato perchè è di colore marrone ha tutti i zuccherini ovviamente ha la calavita e ha il cono guardate che è uno squishy è bozzicato e bozzicandolo è uscito questa glassa diciamo un po' slow rising pochino perchè torna un pochino lento comunque devo stare attenta perchè ho già perso due zucche tre no cinque zuccherini e quindi devo stare attenta perchè ha mille zuccherini di tutti i colori devo stare attenta a questi maledetti zuccherini infilandolo ho perso un altro vabbè allora adesso lo vado a mettere e scopriamo l'ultima cosa quindi sono tre le cose allora questo qui magic slime orbits orbits slime orbits slime si chiamano orbits ma anche magic slime allora contiene due slime ai allora sono quattro le cose box di colori differenti una cannuccia una cannuccia non so che serve ma lo potete anche cercare su facebook e youtube mischia gli slime e crea un nuovo colore qua vi spiega che fa rimbalza rimbalza produce stranissori gonfia con la cannuccia ah ecco che serve la cannuccia a gonfiarlo wow l'edicola 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 questa è tutta la collezione spero di farla l'edicola costa solo 2 euro e 90 quindi andatela a comprare allora vediamo vediamo questa cannuccia piccola piccola vabbè la uso allora ci sono questi due che colore bello che mi è uscito però non li posso mischiare perché sono sono ecco sono due se faccio la collezione li mischio ma adesso non posso ecco vediamo 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 allora ecco oh ma fa le volle è oh cazzo aiuto ho strappato un po' ma uh vediamo vediamo ragazzi caduto guardate ok oh bella però non è che sia lunga guardate l'altro ah sia lunga se non mio dio è diventato trasparente quanto è bello adesso vorrei provare a fare la bolla mettiamo questa minica luce però devo soffiare come come faccio perché non credo che le cannucce allora lo stiro credo che le ho finite le cannucce quindi uso per forza non ci riesco non ci riesco ragazzi perché guardate vedo qua vedo qua aiuto ci sto provando molto difficile con questa piccola cannuccia ragazzi non ci riesco adesso vado a vedere se ho delle altre cannucce ma credo di no ragazzi non abbiamo le cannucce non so come faccio perché questa è piccolissima ci riprovo l'ultima volta ma credo che non ci riesco no uffi 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 ma vabbè poi c'è quest'altro slime oh mio dio guardate che è rosso aspettate adesso lo devo strizzare bebe bebe vorrei tanto vedere che colore fanno il rosso il blu non so se li mischia ma credo proprio si no cioè non si vede che non si vede lo slime c'è lo slime allora adesso giocherò un po' con i miei slime ma fanno le puzze le sue scatolini però guardate non lo sapevo fanno le puzze fanno le puzze fanno le puzze che fine allora 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 fii queste telecamera adesso ci trovo un po' e poi guarda vediamo se diventano trasparenti come prima credo proprio di si perché guardate o prima l'ho visto si rompi subito subiano no aspettate subiano piano ci sto riuscendo no qui uuuu ragazzi guardate c'è lo slime ed è trasparente guardate guardate ragazzi c'è lo slime ed è trasparente guardate quanto è bello ehm vabbè poi c'è quest'altro aspettate che adesso lo allungo piano 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 perché sennò strappa adesso anche lui si sta facendo trasparente ecco ragazzi e guardate lo slime non si vede e però c'è c'è sempre proprio oh mio Dio bene ragazzi adesso andremo a potere questo slime però prima se voglio giocare un altro po' quando sono carini però quando sono un po' lì non ci vorrei mai smettere di giocare perché sono carinissimi aspettate vabbè questo non metto fanno anche le cosette non so perché ah ma vabbè poi questo che trovo un altro po' oh mio Dio quanto è carino uuuu ci 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 ui aiuto vabbè anche questo lo metto fa le puzzone questo aiuto aiuto ma che basta lo insieme ecco vado a vedere se l'ho messo bene ma questo è più poco ma questo è più poco ma non so perché ma uuuu non so perché ma è più poco veramente ragazzi lo giuro lo vado a stirare lo vado a stirare ok l'ho appena comprato sembra adesso lo vado a mettere qui che c'è la canuta oh mio Dio c'è la canuta ma non ci riesco proprio perché Mignon anche mia sorella ci ha provato prima quando ho stoppato il video ma non c'è niente da fare se l'ho messo se l'ho messo se l'ho messo ecco ecco nella sua convenzione ma perché si è aperto questo uh un barato vabbè ragazzi mi saranno divertite con voi ad aprire questi slime e questo sono tutto quello che avevo comprato bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e se così lasciate un like quello che volete voi e se volete eh vi potete iscrivere al mio canale per ora siamo arrivati a 19 iscritti poi non so se ci sono altri che non ho visto vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e vabbè noi ci vediamo al prossimo video ciao